Il Centro Ski d'Erba Ski Sviluppo Monte Alago, immerso nel cuore verde dell'Umbria, raggiunge un altro storico obiettivo sportivo per il nostro territorio. Omologazione nazionale Fisi per la pista Ski d'Erba della Lago. L'omologazione proietta il centro, con i suoi tecnici federali nei programmi agonistici Fisi con Ski d'Erba, soprattutto per il settore giovanile. Chiare 12 mesi in Umbria continua nella promozione di questo sport, fatto di elevata destrezza e forza, conservando i meccanismi dello Ski alpino. Addestramento, allenamento, finalizzato allo sviluppo di atleti a lungo termine. Il Centro Sportivo Ski Sviluppo della Lago, con una superficie di 12.200 metri quadrati, una lunghezza di 255 metri, una pendenza del 16%, è aperto con impianti di risalita, principalmente la domenica, e il sabato per attività straordinarie, con materiali a disposizione per i propri soci e tesserati Fisi. Nella giornata di venerdì 1 novembre 2019 si è svolto un importante incontro, con il sindaco Giovanni Bontempi, l'assessore allo sport Elisa Cacchiamani, l'omologatore e allenatore nazionale Fisi Gualtiero Guenza. Il presidente di Ski Sviluppo, l'allenatore Fisi Sergio Fancelli, il team Ski Sviluppo Demo con i tecnici nazionali Giuseppe Perna, Emanuele Battistelli, Ivan Mortolini, Alessandro Fusari, Marco Armillei e lo staff. Per continuare e ampliare i confini nei programmi futuri agonistici e promozionali dello sci d'erba sulla lago, Ski Sviluppo augura tanto divertimento a tutti gli appassionati. Ski Sviluppo, l'allenatore Fisi Gualtiero, l'allenatore Fisi Gualtiero, l'allenatore Fisi Gualtiero.